Oggi andiamo a conoscere un trucchetto strabiliante di Microsoft Teams. Quando siamo all'interno di un meeting e vogliamo andare a presentare una presentazione di PowerPoint, l'utente standard che cosa fa? Va semplicemente ad aprire PowerPoint, va su condividi, condivide schermo oppure condivide la finestra. Non c'è cosa più sbagliata da fare, perché vi perdete delle funzionalità veramente fantastiche da utilizzare quando siete in meeting. Siamo in smart working, remote working, bisogna utilizzare la tecnologia nel modo corretto per sfruttarla al massimo. Oggi vediamo come sfruttare questa cosa al massimo. Quindi non faremo la presentazione in questo modo. Vi farò vedere alla fine del video come arrivare a questo tipo di presentazione. Se vedete io qui ho il riquadro rosso che è esattamente quello che stanno vedendo gli utenti che sono collegati al meeting. E poi ho tutte le funzionalità della modalità relatore all'interno di questa finestra. Quindi non mi servono più due monitor per avere la funzionalità relatore. Me ne basta uno, perché qui ho tutto a mia disposizione. Ma questo non è tutto. Posso andare ad utilizzare i tre puntini e posso fare ad esempio uno zoom sulle slide e spostarmi. E quello che sto facendo qui viene proiettato verso tutti gli utenti che sono collegati. Ovviamente ricordo che ogni singolo utente può utilizzare control, rotellina avanti o rotellina indietro quando qualcuno sta presentando per fare uno zoom. E poi con il mouse si può appunto spostare sulla slide e fare uno zoom specifico. Però da qui, dal relatore, posso fare questa cosa. Ovviamente avendo la funzionalità relatore, avendo anche un solo monitor, ho tutta la descrizione che mi può aiutare per presentare la mia slide. Però questa non è la cosa più bella di questa funzionalità, di questo modo di condividere, di shareare il mio PowerPoint. Le due funzionalità migliori sono queste. Di default, quando io l'avvio, c'è questo bottone che è attivato, quindi anteprima. Cosa significa? Che quando io proietto, quando shareare il mio PowerPoint in questa modalità, l'utente che sta guardando, che cosa succede? Allora, vedete che io qui sono in un'altra slide, perché mi sono collegato al meeting e ho bisogno di rivedere una slide presente, oppure andare avanti perché voglio vedere in anticipo cosa c'è dopo. Quindi mi posso staccare da quello che il relatore sta proiettando e poter tornare indietro, andare avanti per vedere le mie cose. Poi quando ho finito di vedere le mie cose, vado qua giù e schiaccio questo bottone, così mi riallineo con quello che il relatore sta presentando. Quindi do la libertà all'utente che sta vedendo la mia presentazione di spostarsi tra le slide, fine di mandare i PowerPoint per mail, in modo che gli utenti possano guardarselo immediatamente mentre siamo in presentazione. Poi magari lo condividiamo successivamente. Però questa è una funzionalità veramente interessante. Se io invece voglio bloccare questa cosa perché voglio che gli utenti non possano scorrere avanti o indietro e voglio che seguano quello che io sto facendo passo dopo passo, andrò semplicemente a disattivare questa funzionalità. La seconda funzionalità veramente interessante è che io sto presentando, io lo dovico, un altro utente, magari il mio capo, ha bisogno di prendere un attimo il controllo della presentazione, perché magari, non so, deve venire qua, deve discutere, deve sottolineare, deve fare le sue cose, o magari è un'altra persona che magari dalla 1 alla 4 lo presentate voi, dalla 5 alla 8 deve presentarla a qualcun altro. Inutile nella modalità standard interrompere, poi far andare in presentazione a qualcun altro. No, con questa modalità che cosa succede? Io posso andare qua su in alto, qua su, in alto a destra e trovo un pulsante. Quando premo questo pulsante, adesso vi faccio vedere che cosa succede, lo premo di qua. Quando lo premo, ecco che io sto partecipando come utente, come spettatore. La modalità di presentazione di relatore è passata all'altro utente e si troverà tutte le funzionalità che vedevamo prima. Poi io ho bisogno di riassumere il controllo, perfetto, vado semplicemente qua, schiaccio, assumo il controllo e riprendo io il controllo della presentazione. Queste due funzionalità sono veramente fantastiche, perché ci permettono di presentare in modo professionale, possiamo far interagire più utenti, non dobbiamo più chiedere al partner, vai avanti di slide, vai indietro di slide, perché di solito ci si aiuta anche con qualcuno, no? Possiamo fare tutto in autonomia e in modo veramente molto agevole. Come faccio ad entrare in questa modalità di presentazione del mio PowerPoint? È molto semplice. Andiamo in condividi in alto e le troviamo qui, se abbiamo la presentazione nell'exo le troviamo qui, però non usiamo il PowerPoint che trovate in questa posizione, perché potrebbe non essere aggiornato, oppure lo cambiate e il cloud può non sentire subito le modifiche. Quindi andiamo a prenderlo manualmente, prendetelo sempre manualmente per essere sicuri. Andiamo quindi in basso, andiamo su cerca nel computer, andiamo a prendere la nostra presentazione che è questa, faccio apri e semplicemente adesso lui la carica all'interno dei Teams, faccio sostituisci perché c'è già una mia copia e partirà appunto la modalità di presentazione in questa modalità. Eccola qua. Ecco che abbiamo ottenuto appunto tutto quello che ci serve per andare a presentare in modo efficace e professionale. Bene, direi che anche con questo video è tutto. Lasciate un po' le lezioni su, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, lasciate un bel commento in cui mi dite cosa ne pensate di questa modalità di presentare di Teams. Invece se vorrete sostenermi in modo incisivo per aiutarmi a trovare sempre giorno dopo giorno lo stimolo di andare a creare contenuti come questi che possono essere utili per tutti, magari pensate a stipulare un abbonamento col tasto abbonati che trovate sotto al video. Questo è veramente un grande aiuto da parte mia per riuscire a fare quello che sto facendo perché creare contenuti è veramente impegnativo e dispendioso di tempo. Comunque accedendo all'abbonamento poi accederete ovviamente a tutti i servizi che offre il mio canale quindi avrete molti più video a disposizione per voi. Vi ringrazio molto per avermi seguito sino qui, ci vediamo al prossimo video. A presto, ciao!